La critica della ragion pura è la seconda delle tre critiche scritte dal filosofo tedesco Emanuel Kant. In questa seconda delle tre critiche, la prima è la critica della ragion pura, la seconda è la critica della ragion pratica, la terza è la critica del giudizio, Kant indaga le possibilità, le estensioni, i limiti della ragion pura nel suo uso pratico, cioè intesa non ai fini della conoscenza ma alla determinazione della volontà. Se gli animali obbediscono necessariamente alle leggi natura e non sono quindi liberi, l'uomo è invece in grado di rappresentarsi nelle leggi che sono guida della sua azione. L'autonomia è la capacità di darsi regole per l'azione, mentre l'eteronomia è la dipendenza della regola esterna. Dio, il sentimento, la religione, il premio o il castigo. L'elemento centrale di questa critica è l'imperativo ipotetico. La maggior parte degli imperativi ai quali obbediamo è di tipo ipotetico. Per esempio, se vuoi il giocattolo, studia. Se non vuoi andare all'inferno, fai il bene degli altri. Ora Kant si chiede, è possibile pensare a un comando che valga come comando e basta? Esiste di fatto un simile imperativo morale dentro di noi. Ogni intervento estraneo alla volontà provoca solo ipocrisia. Se invece faccio la carità ai poveri per puro dovere, io compio un'azione morale e santa. Se la faccio invece per compassione o per vanità, io sono un ipocrita. E al massimo compio un'azione legale, ma non certo morale, dice Kant. Si comprende quindi come Kant sia un teorico del dovere. E al dovere dedica delle pagine molto importanti, magari oggi anacronistiche e perciò maggiormente necessarie. Dovere è nome grande e sublime, dice Kant. Quindi non imperativi morali ipotetici, ma solo imperativi morali categorici. Le cui formulazioni proposte da Kant sono Agisci in modo da trattare l'umanità sempre come fine, mai come semplice mezzo. La seconda regola è agisci in modo tale che la tua volontà possa considerare se stessa come universalmente legislatrice. E la garanzia del sommo bene e della felicità eterna sono l'esistenza di Dio, la libertà dell'Io, l'immortalità dell'anima. I tre postulati della ragion pratica. Queste garanzie non sono intese come verità che si devono seoricamente dimostrare, ma sono appunto tre postulati che vanno accettati per fide. Sono dei presupposti che si possono accettare per fide. Presupposti che quindi regolano la nostra azione. Poiché l'uomo come soggetto morale riesce ad attingere in quelle verità metafisiche a lui inaccessibili in sede di ragion pura, giustamente Kant assegna il primato alla ragion pratica. La ragion pura è limitata all'interno del fenomeno e la ragion pratica invece può andare al di là dell'esperienza sensibile. Non a livello conoscitivo ovviamente, ma a livello pratico. Comunque va ricordato che non si tratta di conoscenze che si possono dimostrare scientificamente, ma postulati appunto che stanno alla base anche della fede. L'ultima frase famosissima di questa opera, che costituiscono anche una sorta di conclusione, dicono appunto le due cose che colmano l'animo di ammirazione e reverenza sempre nuova e crescente, sono il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me.